Musica Signor Anziani, questa sera l'avete descritto un po' tutti, tu con che parola l'hai descritta e con quale aggettivo l'hai descritta questa stagione e questa serata? Io questa sera l'ho descritta con la parola fatica, fatica perché non è in senso negativo quindi la fatica di andare in campo, sudare ma è proprio la voglia che abbiamo di lavorare e lavorare per raggiungere i nostri obiettivi, superare i risultati dell'anno scorso che io fortunatamente sono riuscito a raggiungere con la vittoria da Challenge Cup, il quarto posto, la semifinale e il playoff sfierata quindi l'obiettivo mio personale e anche dei squadra è cercare di superare i propri limiti e arrivare al più alto risultato possibile.